Sicuramente la grande occasione rievoca il varietà, cioè tutto quello stile di spettacolo che finora non abbiamo più visto da tanto tempo. È bello perché è pieno di roba, è pieno di colori, di costumi, di luci, di scene recitate, di gente che si accapiglia, si gelosia, invidia. Quello che poi succede è dietro sempre un po' i camerini di un teatro e quello che dico sempre è che questa grande occasione, tutti meritiamo una grande occasione, sia nella vita, nella vita privata che nella vita artistica. E questo è un momento secondo me giusto per far vedere al pubblico questo tipo di spettacolo, perché porta allegria, porta spensieratezza, porta un grande, come posso dire, un modo di travolgere proprio a livello di felicità. Ecco, questa è una cosa molto bella secondo me. L'augurio che posso fare a questa grande occasione è sentire gli applausi del pubblico dei più bei teatri d'Italia, perché se lo merita, perché ci abbiamo lavorato tanto con amore ed è uno spettacolo che veramente ha bisogno di vedere più teatri e farlo vedere a più gente.